Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di martedì 12 dicembre. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare questa vasta ed intensa perturbazione di origine nordatlantica a portare fenomeni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni atmosferiche si presenteranno stabili ma accompagnate da cieli molto nuvolosi o nuvolosi sul versante orientale della nostra regione. Mentre sul versante occidentale avremo cieli principalmente coperti con possibilità di deboli piogge. La ventilazione media risulterà intensa da garbino e le temperature massime risulteranno in aumento con valori compresi fra i 19 e i 20 gradi centigradi. Mentre nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica vedrà ancora tempo stabile sul versante orientale ma possibilità di piogge in particolar modo sul versante occidentale. Nel corso della serata le condizioni meteorologiche vedranno un ulteriore peggioramento con le piogge che risulteranno intense sul versante occidentale e con possibilità di sconfinamenti in particolar modo sul versante orientale del Terramano. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.